Nessuno dei manifestanti ha ritenuto fosse importante assistere in prima persona a ciò che erano venuti a contestare, per scoprire se stavano dicendo o meno la verità. Così il cantante Simone Cristicchi, sulla sua pagina Facebook, ha commentato la contestazione, subita ieri sera al Teatro Aurora di Scandici, da parte dei gruppi Noi saremo tutto e Firenze antifascista, prima del suo spettacolo Magazzino 18 sull'esodo istriano del 1947. Una cinquantina di persone sono salite sul palco e hanno esposto lo striscione con la scritta La storia non è una fiction, non ricordiamo tutto, davanti a circa 800 persone a corse per l'evento. Lo spettacolo più che sulle foibe era sull'esodo e gli istriani e molti di esuli erano ancora in sala. Abbiamo rivendicato, si legge in una nota del movimento, la volontà di non trasformare la storia in una fiction. Questa volta a giocare sporco è stato Simone Cristicchi, che con il suo spettacolo mette in scena il peggior revisionismo storico, volto a legittimare il nazionalismo italiano antislavo. Sul posto sono arrivati diversi pattuglie dei carabinieri, ma i contestatori si erano già andati senza creare ulteriori problemi. Lo spettacolo, ha detto Patrizia Coletta, direttore di Fondazione Toscana Spettacolo, racconta pezzi di vita di una storia controversa, trattata da Cristicchi con delicatezza e rispetto dei vari punti di vista. Non è uno spettacolo di parte. Dispiace solo, ha concluso Cristicchi sulla sua pagina Facebook, che tra il pubblico ci siano stati molti esuli, offese oltremodo anche da questa ridicola pagliacciata.